buongiorno a tutti amici allora oggi dopo aver parlato dei maneskin che hanno aperto eroni stone voglio anche parlare dei big four dei big four del metal perché volevo commentare la dichiarazione di scott ean degli antrax che dice che dovremmo si dovrebbe aggiungere la quinta band exodus alle quattro band che formano i big four dovremmo dire cioè lui ha detto che si dovrebbe chiamare big five con gli exodus in più e non più big four composti solo da metallica slayer meret e gli stessi antrax ricordiamo che big four è un tour di queste quattro band le più importanti le più famose e le più influenti nell'ambito trash metal e metal che si è si è ideato credo che sia stato la sulle batteristie metallica idearlo e comunque lui ne ha parlato con con tutto il suo materiale per cercare di farlo diventare quello che è cioè un tour itinerante appunto e ha coinvolto è iniziato verso il 2010 2011 se non ricordo male è passato anche in italia è stato pubblicato un dvd un cofanetto con due di un dvd e cinque dischi quattro dischi che contiene l'intera performance di un concerto a sofia tenuto appunto da metallica slayer megadeth e antrax in quest'ordine e nell'ordine anche di importanza è stato è stato costruito è stata pensata questo questo tour composto da queste quattro band e sono state coinvolte le più importanti e ed è stata una è stato un successo è stato una bella cosa è stata una bella cosa sicuramente sicuramente alla sulle che a metallica è venuto in mente di fare questo questo tour itinerante perché perché è noto come fare dei dei festival sia importante per cercare di appunto ottenere gente ai propri ai propri concerti e si diminuiscono i costi si ottimizzano le risorse e si offre uno spettacolo una figata insomma ricordiamo che manuel agnelli manuel agnelli degli after hour figura incredibilmente di spicco in italia e incredibilmente avanguardistica fece nel 2002 2003 circa il tora tora festival e fu una cosa geniale e ha molto avanguardistica per quegli anni lì cercare di raccogliere tutte le band del panorama indipendente e mandarle in tour in tutta italia questo tora tora me lo ricordo benissimo che sono andato verlo molte volte specialmente quando passava per radio show da padua e dimostrando che manuel agnelli come ha come anche altri personaggi abbia delle doti anche manageriali e anche da talent scout e anche delle doti insomma oltre il canto trato se si ha pensato di ha organizzato questo questo tour gigantesco tora tora ecco i big four appunto questo questi questi tour questi tour che comprendono band gigantesche che si sommano insieme fanno bene sia alla band principale metallica fanno bene sia la band principale perché perché probabilmente in quel periodo lì metallica aveva un po di difficoltà a capire con chi accoppiarsi nei tour e l'idea di accoppiarsi agli slayer ai megadeth e agli antrax che sono i loro fratellini era giusta era logica e fa bene anche sia a slayer megadeth e antrax che praticamente loro tre insieme faticano a fare gli stessi numeri che fanno in metallica da soli quindi agli antrax va di lusso ma anche i megadeth e gli slayer andava di lusso aprire per metallica perché perché appunto si beccano anche tutta l'altra anche tutta la gente che 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 andava a vedere metallica ma che magari non ma non sarebbe mai andata a vedere gli antrax per dire e quindi questa è una soluzione che fa bene a tutti e fa molto bene a tutti dunque tornando alle dichiarazioni di scottiglian in cui lui dice bisogna far entrare anche gli exodus io dico assolutamente no no non è possibile far entrare gli exodus non è possibile far entrare i testament non è possibile far entrare di conseguenza tutti gli altri perché scottian dice il primo il primo esordio è migliore di tutti gli altri esordi il primo esordio degli exodus bounded by blood è migliore di tutti gli altri esordi della band delle band no non è vero neanche questo è vero neanche questo è vero perché 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 kill em all kill em all è troppo bello anche se anche se l'esordio degli exodus è molto pregiato perché si sente che è molto pregiato non ha assolutamente la bellezza di kill em all e sono mercy paga una produzione una produzione scarsa e quindi e anche gli altri sono sono un attacca sotto forse veramente quello degli exodus veramente è in grado di stare sopra di stare ma neanche perché neanche anche 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 quello anche anche le canzoni di slayer sono troppo belle anche black magic la sesta traccia degli slayer che c'è anche di antichrist che è la numero 2 su sono mercy non possono assolutamente competere con nessuna delle canzoni di bonded by blood e questa cosa la si vede quando la si vede questa questa incapacità purtroppo ed è qui che volevo arrivare questa incapacità di composizione da parte degli exodus dov'è che si vede e quando nel 90 89 90 92 hanno firmato il contratto con la capital e hanno provato a fare due dischi specialmente uno che era quello del 92 forse by qualcosa forse tu abit in cui hanno provato a fare tutto quello che avevano già fatto gli altri slayer metallica megadeth antrax avevano provato un po a rallentare seguendo anche il cambio di scenario che il metal stava subendo grazie al grunge hanno rallentato i tempi la velocità delle canzoni hanno ingrossato le chitarre hanno reso il basso il primo piano hanno cercato di fare delle canzoni più canzoni con un cantato dei vocals più melodico invece 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 cosa è successo che dopo questo disco hanno fatto il tour gli exodus poi si sono sciolti perché non hanno avuto il riscontro che speravano ma il riscontro che speravano non è stato non è stato avuto per il motivo principale che è quello che appunto facendo così facendo tutto questo che io apprezzo tantissimo io apprezzo tantissimo perché sono impegnati da capitoli ha dato le risorse e loro sono andati in quella direzione lì hanno cercato di fare di tutto per cercare di fare delle canzoni che potessero andare che potessero piacere ma facendo così hanno dimostrato che in realtà la loro capacità compositiva non vale molto non vale molto non vale nel 92 e nel 90 con impact is imminent 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 impatto imminente non vale né né in quel pezzo né in quel disco lì né nel 92 ma non valeva neanche con con body bad blood e si sente e si sente questa incapacità di di composizione perché intorno al 92 93 94 io avevo solo 12 13 anni 14 anni però i miei amici più grandi non ce li avevano i dischi degli exodus io gli exodus li ho conosciuti anni dopo quando ho preso le riviste specializzate le enciclopedie specializzate all'epoca i dischi degli exodus io non li ho mai visti da nessuna parte i miei amici più grandi quelli che avevano già 18 20 anni che seguivano il trash che seguivano il metal avevano tutti i dischi di metallica gli iron mining avevano gli slayer avevano qualcosa forse degli antrax qualcosa qualcosina avevano anche i sepoltura che osd ce l'avevano avevano anche arise e se avevano in sepoltura e non avevano gli exodus si capisce perché le canzoni di sepoltura siano più belle di quelle di exodus cioè non c'è niente da fare e anche qui ritorna l'incapacità di composizione purtroppo e mi siano anche molto molto fatti bene siano veramente tecnici ma anche prodotti bene registrati bene però appunto la gente non ce li aveva non se li filavano in tanti non se li filavano in tanti e potevi andare potevi andare da lì in poi c'erano gli overkill appunto qualcuno qualcuno nomina appunto gli overkill degli annihilator e i testament e quel filone lì che si 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 affossa nel trash più 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 tecnico comunque comunque questa incapacità di composizione si sente quando si sentono questi due dischi del 90 92 perché praticamente non si nonostante tutti gli sforzi che avevano fatto di produzione le canzoni risultano monotone monocromatiche assolutamente piatte non si non si non c'è la differenza tra tra stoffa ritornello il cantante non riesce a cantare delle melodie che si possono che si possono ricordare i riff sono tutti piatti suonano piatti dall'inizio alla fine anche non c'è un picco non c'è un una un'onda che un climax che sia una situazione in cui c'è un un inizio un centro un raggiungimento di un climax un picco e e poi di nuovo un basso e un picco che corrispondono magari alla strofa ritornello stoffa ritornello non l'encefragona ma è piatto l'encefragona ma è piatto quando si ascoltano questi dischi qua anche adesso ma specialmente allora risultano noiosissimi risultano inascoltabili noiosissimi noiosissimi e la noia la noia la l'incapacità appunto di rimanere di rimanere coinvolti durante l'ascolto di questo disco e ti attanaglia subito dopo i primi minuti ed è per questo che non hanno venduto niente quindi scottina la deve finire la deve ci dobbiamo basta non c'è più spazio per nessuno a parte che i big four non si faranno mai più perché perché tra l'altro anche gli sd adesso sono definitivamente chiuso con la loro carriera benissimo ma non si può tirare non si può tirare in ballo più nessuno perché queste band non hanno avuto la capacità di di emergere come i primi quattro fondamentalmente ed è già una grazia che ci siano gli antrax perché perché anche agli antrax hanno avuto lo stesso problema solo che loro ce l'hanno avuto alla fine degli anni 90 anche considerando anche tutti i cambi di formazione tutta questa instabilità allucinante che che faceva andare via il cantante ritornare l'altro non dare via il bassista queste cose qui che non fanno bene cioè alla casa discografica quando vedi una band così gli si stracciano le palle capito non è possibile non è possibile e quindi addirittura dimenticavo dimenticavo gli exodus avevano provato addirittura anche a fare due cover c'è una di Rolling Stone e di un altro gruppo nell'ultimo disco che hanno fatto per la capital quindi veramente questa cosa io la apprezzo moltissimo da parte loro questa 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 capacità di di cercare di di collaborare con la casa discografica la apprezzo molto di più di degli slayer e di quelle e di quelle band che che mandano a funculo la casa discografica come anche in pantera che apprezzano tanto che a me piacciono tantissimo in pantera ma quando quando la la casa discografica gli aveva detto perché non provate a rappare qualcosa in più provate a fare qualcosa per cercare di rimanere in classifica e loro gli hanno detto vaffanculo ok bene questa cosa in un nulla apprezzo e perché la capacità per la capacità compositiva se una band alla capacità compositiva può può anche accontentare no può anche andare incontro alla casa discografica ed è lì che si vede la grandezza di una band e anche gli slayer hanno sfanculato la casa discografica quando nel 94 la casa discografica gli ha detto ok benissimo ma ci dovete dare divine intervention benissimo ok divine intervention ma ci dovete dare almeno una hit noi non vediamo hit qui e kerry king insomma d'accordo con la band gli ha detto ascolta questi sono i dieci pezzi che ti abbiamo dato se tu non riesci a trovare una hit è un problema tuo se invece ce ne hai una da darci noi la registriamo e te la diamo sì ma grazie al cazzo allora no cioè allora se la casa discografica avessero delle hit potrebbero chiamare dei semplici professionisti e fare registrare e guadagnare calate milionate di soldi questa cosa qui degli slayer io non non va bene questo atteggiamento strafottente perché poi lo paghi questo atteggiamento strafottente qua e gli slayer sono salvati solamente perché sono bravissimi a fare i pezzi sono strabravi sono bravissimi e non si vede soltanto in disciple che non era neanche un singolo ma è una canzone spacca ossa è una hit non si vede solo in quello si vede anche in pezzi come come quelli di Jeff Hahnemann che faceva con le chitarre acustico le chitarre no acustiche per carità con le chitarre con clean con sono clean si vede anche nell'intro di jihad si vede in nella traccia numero 7 love to 8 di diabolus in musica si vede in queste tracce anche la numero 3 di di Christ Illusion queste tracce che vanno incontro alla anche bloodline che vanno incontro al mainstream si vede in quelle ed erano delle soluzioni ottime per un per un thrasher che che ha fatto riff come appunto running blood e quindi Jeff Hahnemann le sapeva queste cose le sapeva molto bene le sapeva molto troppo bene tantissimo le sapeva bene solo che lui era uno che non voleva parlare non voleva fare interviste se ne fregava se ne sbatteva le palle ma in realtà ha sempre cercato di farlo e quindi l'atteggiamento negativo non lo apprezzo per niente apprezzo però appunto l'atteggiamento molto positivo dei lexus ma purtroppo non si sono non è non è non è stato abbastanza forse dovevano chiamare un altro il corrispondente di bobo rock dovevano chiamare qualcuno dovevano dovevano cercare di impegnarsi un po di più che ne so guardate che metallica per fare quello che hanno fatto sono sono fatti un culo così per cercare di fare delle canzoni anche già loro andavano in quella direzione cioè bisogna volerlo ma poi bisogna anche lavorarci su cioè bisogna anche e appunto anche i testament ci hanno provato tantissimo con quel disco quello grigio non so se si chiama the ritual quello col pentagono cioè anche lì hanno provato tantissimo a fare un disco come come il black album ma anche lì non hanno non hanno avuto la capacità compositiva quindi è inutile che 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 ci che ci che ci si provi a metterli dentro ai big four non ci vanno non ci vanno niente non ci vanno anche perché dopo gli ultimi dischi che hanno fatto sia sia gli exodus sia i testament dopo the gathering ad esempio gli dischi che hanno fatto gli ultimi cinque anni dal 2014 al 2010 in poi sono dei dischi trash assolutamente inascoltabili tutti basati sulla tecnica tutti 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 ultra veloci ultra ultra pesanti che non è neanche più il trash di 1980 ecco quello che volevo dire è che il trash del 1980 è morto e basta non c'è più ci sono solo delle c'è solo la rimane solo la capacità di scrivere dei pezzi simili buoni però come spit out the bone spit out the bone è l'ultimo è l'ultimo pezzo dell'ultimo disco di metallica quello là è un abbordato trash benissimo ma è anche che poteva starci nel 1980 ma funziona anche adesso ed è completamente diversa dalle tracce lunghe degli exodus di exebit ibi di quei due dischi lì che sono complicatissimi e quindi questa è la situazione gli ultimi non si sono neanche risolevate neanche neanche dopo appunto le reunion e anche e anche gli antrax fanno tantissima fatica a risolevarsi tantissima fatica a fare dei pezzi che riescono ad essere ascoltati e a essere un attimo rivalutati ad essere ad essere comprati anche perché anche anche perché adesso gli slipcrown stanno hanno fatto uscire oggi primo il primo il primo singolo del prossimo disco però purtroppo chi ascolta gli slipcrown non è detto che ascolta che ascolti gli exodus perché sono due generi diversi e pare che gli slipcrown non abbiano problemi hanno una fan base che è completamente diversa e hanno delle tematiche diverse hanno dei riff diversi hanno tutto un loro universo diverso dagli altri eppure pure facendo roba durissima questi questi slipcrown riescono comunque ad avere un seguito che piace mentre invece appunto come antrax eccetera non si riescono a risollevare non c'è niente da fare non si risollevano e mustaine mustaine si salva perché si è arenato in una traccia con un attacca compositiva per cui fa gli album ogni due tre anni praticamente quasi tutti uguali che hanno delle influenze residue del prog e si 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 allineano su quell'attacca dei quattro accordi discendenti suoi che sono suoi che li fa sempre e le canzoni sono più o meno sempre uguali e non è non sono neanche non sono neanche propriamente trash non sono neanche propriamente di quel tipo lì quindi lui si è salvato perché riesce a oltre ad avere oltre ad essere un manager ottimo ottimo e riesce riesce a mantenersi perché ha questo tipo di poi ha dei contratti ottimi insomma poi adesso farà anche uscire un disco del 2005 per cui qualcosa riesce a tirare su quindi per quello stanno bene i megadet stanno bene per quello ma ma per esempio i dischi gli ultimi sono molto inferiori a quello che potrebbero fare a quello che potrebbero fare a quello che potrebbero a quello che hanno fatto sia l'islea che quello che hanno fatto in metallica perché metallica hanno loro hanno il loro discografia quella non attacca non la tocca nessuno e gli dischi hanno avuto purtroppo la difficoltà la difficoltà di difficoltà insomma la perdita totale proprio la morte di Jeff Hahnemann e negli ultimi dieci anni hanno fatto praticamente due dischi l'ultimo era con Jeff Hahnemann che era perfetto era World Painting Blood era un capolavoro e l'ultimo disco Repentless aveva un hit che era appunto Repentless però però appunto dopo Kerry King non riesce ad avere la forza compositiva di Jeff Hahnemann infatti molti pezzi di Repentless purtroppo sono tendono a tendono ad abbassarsi ad abbassarsi non c'è più non ci sono più quei cinque quei cinque pezzi devastanti che con i riff di Jeff Hahnemann per cui e poi comunque appunto Tom Araya aveva già capito questa cosa qua e aveva già cominciato a dire no io prima o poi dirò basta e adesso è tranquillamente in pensione con la sua famiglia e io apprezzo moltissimo questa scelta qua mentre invece Kerry King ritornerà tranquillamente con Paul Bostaff e molto probabilmente anche con Gary Old se ha un po' di tempo il dubbio è il cantante cioè il punto di domanda del prossimo tour e disco di Kerry King è il cantante che non l'ha ancora detto quindi questa è la situazione sui Big Four questa è proprio la storia di quello che è capitato in quei tempi lì e vi auguro buona giornata a tutti spero che questo video vi sia piaciuto e andate ad ascoltare tutti quanti andate ad ascoltare così sentirete le differenze sentirete le differenze fra i vari gruppi ciao a tutti amici grazie a tutti